Ciao ragazzi, sono Guitano, oggi sono qui per presentarvi un prodotto della vasta gamma di American Crew, sto parlando di 24 Hour Deodorant Wash Body, è un prodotto esclusivo appunto per la cura del corpo, se volete ottenere per tutto il giorno quel profumo sulla pelle che caratterizza il post doccia, questo è il prodotto indicato. Idrata, lenisce e combatte i batteri per molte molte ore. Mi raccomando, dopo averlo usato scrivetemi qui sotto tutti i vostri commenti per sapere come vi siete trovati. Con questo io vi saluto, un abbraccio, ciao ragazzi!